L'introduzione alle scienze dello spirito è un'opera composta dal filosofo tedesco Willem Diltai, il quale si chiede come sia possibile studiare il mondo umano. Questa è l'opera che ha influenzato il dibattito ermeneutico contemporaneo circa lo statuto epistemologico delle scienze storico-sociali. A partire da Max Weber fino ad arrivare alla fenomenologia e alla scuola di Francoforte. Diltai intende continuare l'impresa di Kant, il quale dopo aver criticato la ragione conoscitiva, individuandone i limiti, aveva concluso che le scienze della natura erano autentiche scienze. E Diltai raccoglie l'eredità kantiana e esituisce una critica della ragione storica. Le scienze dello spirito, le conoscenze storiche, possono essere oggettive, si domanda l'autore. Le sue ricerche intendono stabilire la possibilità, i limiti e i modi della conoscenza del mondo spirituale. In analogia alla fondazione kantiana della scienza della natura. A questo problema sono dedicati due volumi di introduzione alle scienze dello spirito, dove il filosofo distingue il mondo storico-sociale da quello fisico-naturale. Le scienze dello spirito sono diverse dalle scienze della natura. L'oggetto delle scienze dello spirito è l'uomo nei suoi rapporti sociali. Diltai chiama il Leibniz questa esperienza vivente che coinvolge il sentimento e la volontà. Lo spiegare è sufficiente nelle scienze della natura e il comprendere invece è necessario nelle scienze dello spirito. Il mondo storico è costituito da individui. La storiografia studia l'individuo, il fatto irripetibile, non le costanti invariabili. L'oggetto delle scienze della natura è la ricerca delle leggi universali, delle costanti invariabili, di quelle verità che, trasformate in tecnica, permettono il dominio sulla natura. Se le scienze della natura hanno solo valore teorico-utilitaristico, le scienze dello spirito hanno nel contempo valore teorico-sentimentale. Il fine delle scienze naturali è la legge del concetto. Il fine delle scienze umane è invece la comprensione e l'interesse. Diltai assegna alle scienze dello spirito il campo dell'esperienza interna, quindi l'Eleibniz, intesa però non in senso intimistico. La spiegazione, il clerung del fisico, per esempio, avviene mettendo in rapporto un fenomeno particolare con una legge universale. Alla storia, lo storico non interessa la legge universale, ma il fatto nella sua singolare irripetibilità. La natura è muta per noi, cioè straniera. Essa è per noi qualcosa di esterno, non di interno. Il mondo storico, invece, è il mondo di cui fa parte l'uomo stesso che vuole conoscerlo e quindi può essere penetrato dall'interno, grazie all'Eleibniz, che non è soltanto riflessione o spiegazione, ma è soprattutto comprensione dall'interno.